In questo video chiariremo e vedremo alcuni aspetti del seguente problema. Cosa accade sommando i primi n numeri dispari? Scegliamone ad esempio 4, i primi 4, 1 più 3 più 5 più 7. Potremmo procedere attraverso somme parziali, 1 più 3 risultato più 5 risultato più 7, ma potremmo anche accorgerci che la somma del primo e dell'ultimo numero dà una quantità che è uguale alla somma del secondo e terzo numero. 1 più 7, primo ed ultimo numero, dà come risultato 8, 3 più 5, secondo e terzo numero, dà come risultato sempre 8. Quindi fare la somma di questi quattro numeri equivale a sommare 8 due volte, cioè a fare 8 per 2, 16. E quindi che cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che ci basterà sommare il primo e l'ultimo numero e moltiplicarlo per la metà della quantità dei numeri totali che devo sommare. In questo caso infatti moltiplico per 2, che è appunto la metà di 4, cioè la quantità di numeri che sto sommando. E che cosa accade se invece dobbiamo sommare i primi 5 o i primi 6 numeri dispari? E quindi ci accorgeremo che vale sempre la stessa regola. E' da qui che si arriva poi alla famosa formula di Gauss per la somma dei primi n numeri. La configurazione di questi risultati per i primi n numeri dispari si vede facilmente che è una configurazione di numeri quadrati. Ovvero il risultato della somma dei primi n numeri dispari è sempre un numero elevato al quadrato. E questo consentiva per esempio ai greci di fare dei modelli concreti di numeri, numeri quadrati appunto. E che cosa succede invece sommando i primi n numeri naturali, quindi non dispari, i primi n numeri consecutivi? In questo caso si può vedere che la configurazione che possono assumere i numeri è di tipo triangolare. Questi ed altri suggerimenti li troverete nel corso L'insegnamento dei numeri naturali nella scuola secondaria di primo grado. Grazie a tutti.